Si gioca oggi alle ore 18 allo Stadio Guariglia la gara che vale la finale playoff tra Wessagropoli e Torrecuso. La vincente affronterà il Rende a domicilio. L'Agropoli passerebbe anche con il risultato di parità, ma come ha ammonito alla vigilia Mister Rigoli, guai a pensare al pareggio. Si deve giocare per vincere. Squalificato Manuel Panini, non convocato Tarallo, ancora convalescente dopo l'infortunio. La formazione iniziale dovrebbe ricalcare a grandi linee quelle delle ultime uscite, con qualche dubbio che riguarda il giocatore che affiancherà Cuomo al centro della difesa con il ballottaggio tra Abate e Scognamiglio e in attacco al fianco di Berretti e Ragosta, uno tra Canotto e Capozzoli. A centrocampo agiranno Alfano, Siano ed Esposito. Start dunque alle ore 18. La squadra si ritroverà per il pranzo, poi riposo, merenda alle ore 16 prima di ritrovarsi al Guariglia. Il biglietto d'ingresso sarà di 5 euro in tutti i settori, ospiti compresi.